Il Cogal Monteporo Serre Vibonesi, nell'ambito dei vent'anni dell'ente, presenta il seminario Le politiche per lo sviluppo dei territori rurali. L'esperienza del Cogal Monteporo Serre Vibonesi. Facciamo gli auguri a questi vent'anni del Cogal e soprattutto è un momento importante, secondo me questo, perché dimostra che la storia dimostra che continuità, specializzazione e selettività nelle scelte pagano e pagano nel tempo. Non è il risultato di qualunque cosa noi avviamo, non la possiamo avere, non lo possiamo avere il giorno in cui lo creiamo. Il risultato noi lo abbiamo solo quando diamo continuità e gambe e respiro al nostro lavoro. Quindi scopriamo che questo è un GAL Maratoneta e ci piace e credo che dobbiamo valorizzare questo risultato, valorizzarlo rendendolo un modello di attività. Il modello non vuol dire che noi cristallizziamo quello che ha fatto, vuol dire che noi lo prendiamo come esempio pilota, lo prendiamo come esempio vivo di quello che si può fare e di come si può fare e proviamo a replicarle o dove ci sono proviamo a metterle in rete. Può diventare un soggettino che ci fa dire che non è vero che la Calabria è tutta negatività, perché è una seccatura sentir dire che la Calabria è tutta e solo negatività e non lo possiamo sopportare. Allora detto questo, io credo che questo modello stia dimostrando una cosa, che chi ha lavorato seguendo in maniera precisa le indicazioni che venivano dalla comunità europea e le ha messe in pratica, perché la comunità europea negli anni ci ha dato dei temi da sviluppare. Oggi che cosa ci ritroviamo? Ci ritroviamo un GAL che in maniera naturale, naturale si ritroverà a sposare i temi dello sviluppo sostenibile, intelligente e inclusivo. Cioè vediamo che chi ha seguito quelle linee oggi entra in maniera naturale e riuscirà a portare avanti quei temi perché in qualche maniera ha lavorato sui temi precedenti, per cui non bisogna solo premiare i risultati puntuali e valorizzare quelli, ma bisogna dire che forse l'Unione Europea non ci dava dei temi che erano lontani dalle nostre esigenze, ci dava i temi specifici, forse bisogna dire che qualcuno è stato in grado, anche in questo bisogna come dire fare delle scelte premiali, qualcuno è stato in grado di realizzarle e qualcun altro no e chi è stato in grado di realizzarlo bisogna che venga ulteriormente messo nelle condizioni di lavorare, perché anche il tema della burocrazia che è tutto vero e ci sta tutto vale fino a un certo punto, perché le scelte stanno in capo a chi decide e quindi anche la burocrazia, anche quella che è negal, perché anche negal c'è una forma di burocrazia, se per burocrazia intendiamo chi deve operativamente portare avanti le scelte, c'è, ma è stata guidata adeguatamente e in questo senso va preso anche come modello. Dopodiché nel merito, nel merito io credo che quando dico che entriamo in maniera facile nei temi dell'Unione Europea, ci entriamo perché se i temi sono il giovane, la qualità della vita e l'innovazione, allora su questo noi ci arriviamo in maniera naturale con questo Gai, perché in realtà ripristinare un sistema territoriale, dare fiato ad un sistema territoriale che ha valorizzato gli elementi per cui è riconoscibile ed è identificabile oggi, significa dire ai giovani quali sono le strade da seguire per rimanere qui e lavorare in questo senso, mettendo dentro la tradizione l'innovazione che sono capaci di portare. Allora, a questo punto io direi che l'altra sfida è contabilizzare la capacità che abbiamo di mantenere i giovani nel nostro territorio, cioè come dopo vent'anni avete dato delle cifre, dei dati che riguardano quello che avete fatto, cominciamo a mettere sulla carta quanti giovani non vanno via, quanti posti di lavoro non abbiamo e non perderemo, non abbiamo perduto e non perderemo, scusatemi. Quindi cominciamo a rendere contabile e contabilmente visibile è anche questo. E la seconda cosa sulla qualità della vita di cui parlava stamattina l'onorevole Mangia Lavori, è vero che c'è bisogno di migliorare la qualità della vita, ma ovviamente primo vivere. Adesso avete messo in sesto un sistema, cioè avete reso evidente e qualificato un sistema, adesso si può ragionare sulla qualità della vita, ma ragionare come? Ragionare partendo da una ulteriore qualificazione della compartecipazione civile, quindi rendiamo ancora più attiva la partecipazione civile, perché è vero che ci vogliono le infrastrutture, ma è anche vero che noi dobbiamo lavorare sull'infrastruttura immateriale che è la cittadinanza e che è quella che in qualche maniera avete saputo attivare e dovete ulteriormente implementare ed in questo senso è ovvio che ognuno di noi con le sue peculiarità, ogni partner del GAL deve metterci le proprie peculiarità, per cui per quanto ci riguarda come cooperazione noi metteremo a disposizione tutti gli strumenti che riguardano la cooperazione tradizionale, i cooperatori del resto sono stati più che presenti in questi anni, valorizzeremo loro, valorizzeremo le nuove forme, le cooperative di comunità, l'agricoltura sociale, tutto quello che può essere messo a disposizione, sapendo che noi dobbiamo valorizzare le eccellenze, in particolare le eccellenze no gastronomiche e turistiche, perché sono lo sviluppo, guardando in questo senso e abbiamo qui dei tempi adeguati, guardando a Matera, se è vero che il tempo non è una risorsa rinnovabile, noi ci dobbiamo ricordare che il 2019 è un appuntamento che non ci deve trovare impreparati, né è un appuntamento che non ci riguarda, ci riguarda, è un'opportunità, è vero che Bari e la Puglia si stanno candidando come punto di approdo, ma è anche vero che noi possiamo guardare a Matera come il punto da cui, non da cui si parte per fare giri, ma è il punto a cui possono arrivare i turisti, può arrivare la gente dopo aver viaggiato nella nostra Calabria, è ovvio che si tratta di mettere insieme le risorse, la progettualità con tutto quello che sono le opportunità che si stanno mettendo avanti, per cui questa è Matera, ma questo può essere anche per quanto riguarda un occhio attento alle nostre università, per cui se è vero che questo è terreno di agricoltura, se è vero che qui ci sono le eccellenze no gastronomiche, perché non guardare alle nostre università per dirgli che noi possiamo essere qui nel COGAL, il parco dove i giovani possono sperimentare quello che studiano ad agraria e quindi diventare un punto di riferimento che ci aiuta a diventare specialisti di qualcosa, a diventare punto di riferimento in qualcosa senza dover necessariamente duplicare la presenza dell'università come nostra abitudine duplicare qualcosa per dire che ce l'abbiamo e in questo senso io credo di avere, ho molta fiducia nel COGAL perché so che non ha mai fatto le cose semplicemente perché andavano fatte, ma perché credeva nelle opportunità, ha investito nelle risorse e hanno risposto le persone e i territori insieme a tutte le organizzazioni. Grazie. Il COGAL Monteporo Serre Vibonesi, nell'ambito dei vent'anni dell'ente, ha presentato il seminario Le politiche per lo sviluppo dei territori rurali. L'esperienza del COGAL Monteporo Serre Vibonesi.